Muoviti, devo vederla! Ighetta! Ighetta, amore mio! Amore! Ai! Ah! Stop! Non siamo mica in Normandia, siamo in una cincera qui! Meglio eliminare il fumo, credetemi. Magari non tutto il fumo, perché avevo immaginato almeno... No, 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 no! Tutto! Ok, tutto il fumo è più safe. Più safe, esattamente! Avanti, si gira. Azione, di azione. Azione. Più forte. Più forte? No, di azione più forte. Azione, ecco. Se rovino tutto, sarà il mio primo e ultimo film. Andrà tutto bene, devi tirarti su. Lascia stare quelli che ti considerano una m***a senza carisma. Eh? Perché? Chi lo dice? No, ma no, nessuno. Quelli del collegio, al paese, la tua famiglia. Bravo, hai fatto bene a passare, mi alzi così il morale? Devi farti rispettare. Sei tu il capo. Sono io il capo. Sì, dacci dentro. Sono io il capo. Bene, è così che glielo direi. Il dramma che cortisce la lavorazione del film è offensivo e misogino. Oh, m***a. Nessun regista ha il diritto di comportarsi in quel modo. Verginello, porco. Robin Giacomet non approva tutto questo. Jean-Marc, che c***o è questo video? Qualcuno della troupe che vuole f***a. Che c***o è? È finita, bancarotta. Devo dirti una cosa importante. Ti spacci per un ricco produttore e ti presenti a Jean-Marc. Semplice, solio, il più credibile possibile. I'm in. Guardami. È straordinario. Vuole investire 8 milioni di euro nel nostro film. 6 milioni, 4 milioni, 8 milioni, 1 milione, 10 milioni, 9 milioni, 8 milioni, 3 milioni. Per me è lo stesso, davvero. Sono un sacco di soldi. E poi mi dico sempre, quando vuoi investire, lanciati, spacca, lanciati e spacca. Ah, non riprendere. Azione. Faremo il grande film che avevamo sognato. Stai a me, non riprendi. È successo un macello. Tagliato, tagliato. No, 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 è Raffaele che deve stoppare. È il suo piede che è stato tagliato. Oh cielo, allora taglia. Magari abbiamo un piede tagliato. Scusate. 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 Grazie.